La prima sera che io sono arrivati a casa al mare è appena sentito il rumore del mare bagni, 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 bagni si è tuffata dentro alle 10 di sera bagnata con un anatroco avete visto le acuide? una a me ha preso il volo come se fosse da lì ha fatto una planata e poi è risalita grazie a tutti